Malala, 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 Malala... Béla a tutti e benvenuti all'episodio finale di... ...la di Trappland... ...e... ...e vabbè, state certi che l'ho finito in due minuti. Sì vabbè arrivato... ...pupo quello che sta... ...ma guardalo! ...ha visto come il cazzo salda poco? ...pa, cazzo, gioco di nerda. Fottuto creatore di sto gioco maledetto che deve venirgli un cancro ai testicoli Salutiamo la Tuplei Stadios, non tanto aspetto, ciao Dai, facci rilasciare Half-Life 3 player Così anche Gordon Freeman sarà contento adesso che ha 70 anni quel cazzo di Gordon Freeman A forza di aspettare Half-Life 3, mannaggia quel ciccione Ciao Gabe, un saluto a tutta la balde Vabbè, ma mannaggia di cosa erba viola, non riesco manco a saltare su qualcosa Un saluto a tutti i fan di Truce e Balta Almeno, fatemi un favore, andate la trovavo, venga, le ho affeo Bom, guardalo the man of de sto cazzo, perché non ce la faccio a saltare Ragazzi, per finire il livello serve l'anticristo, come minimo, chiamate Obama Oh mio Dio, doppio salto come fosse un cancro australiano pedofilo Guarda, eh Guarda come proprio no, eh E infatti no, proprio no Oddio, oddio Mamma mia, Trickster livello 10 Danzie me fa una pippa proprio, mamma mia Dato che siamo all'inferno, quindi Ho boh battuta di quelle potenti Cazzo Player, prova a prenderla Ma che n'affanculo Ma Tommaso ha il nardo Che sei andato di nuovo, mamma mia Ok, dopo questa mi si chiudo Cari, eccolo Player, ti avverto, ti inne un'altra così e ti crucifigo il primo palo disponibile in autostrada Massa, forti poco spiega come i peggio giocammelli asiatici, non dovrete niente Nel Kenya, molti giorni fa Un elefante grigio del numerosa Ha teletrasportato un buco nero all'interno del suo culo Ragazzi, io non so quanto avrò tagliato fino adesso, ma Ti dico solo che Sono circa 50 minuti che ci stiamo provando Quindi ragazzi, piccolo taglio E ritorneremo appena avrò fatto ingoiare la pasticca player Bentornati, ho fatto ingoiare la pasticca player Eh, lo so che è partito in medicina Il giardino Tu spuchi pasticche mentre giochi al computer dove le sputi nel giardino Oh my god Oh my god Oh my god Oh cazzo Merda, troia Cazzo god Cazzo god, aspetta Aspetta, hai vinto Cazzo god, hai vinto Cioè, abbiamo fatto spot a Tu c'è Baldazzi Alla 2Play Studios in primis A Moreno A tutti A tutte le persone radioattive nel Giappone Cioè, non lo so Agli elefanti grigi Ai canguri australiani Cioè, non lo so Qualcun altro da qui Che si deve Eh, ai buchi neri Pure, esatto Pure ad Einstein Cioè, a qualcuno che dobbiamo sponsorizzare ancora al costo modico di lire 1500 miliardi Non sai con cosa mi sono lavato Acido muriatico verde Provatelo anche voi Sui vostri bambini Giorno 27 I nostri eroi Sono ancora nel girone più Profondo Dell'inferno To Play Studios Giorno Ma per Mario il confronto è divertente È divertente Ma che c***o male Che poi si chiama Tio Bone Action Lo smettiamo di chiamalo Cat Mario Giorno 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 Fini sto gioco e manco un finale che si possa chiamare finale Mortarci i costi Mortarci i costi Mortarci i costi Io mi aspettavo forse in tutto la vita Io mi aspettavo davvero Paolo Bonolis che veniva qua e mi diceva bravo figliolo adesso ti do un Un ghiacciolo invece me Ops kill LOL Giorno Giorno 38 stiamo registrando questo video da ormai due ore passate E con due ore passate intendiamo due ore effettive passate C***o perchè non mi sardavo Quanto può essere hardcore sul gioco mamma mia mi sta a fare il piangere di essendo videogamer ma che davvero Mamma mia io dico tutti quei codari de merda no che fanno le road ball tv no che fanno i video su youtube Che non fanno sto c***o del gioco e di poco che fanno invece di far vedere che fanno le trenta uno Dei kp che so buono pure io a fare le trenta uno Però su counter strike su code che su code basta che cambia di c***o Intanto sento gente che ancora esce e rientra da casa stora po' Ma proprio con frequenza continua Dopo che tu dici what the fuck come fanno Vabbè che stai Vabbè sempre mezzanotte e tredici E poi ti ricordi che io abito in un condominio che praticamente sono le persone anziane praticamente Cioè io so il più piccolo tefè no no guarda io so il secondo tizio più piccolo del condominio E io c'ho 36 anni Cioè de barba almeno Questa popolana mi va Già la con 3G madonna Come la madonna con 3N Proprio sempre in quel post Cioè c'ho il cervello robotomizzato sono in un loop di morte che ormai non è inarrestabile Proprio quando stai qua non hai più speranza di finire lì Udino 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 Io non voglio mai molte, cioè vado a professare la religione cattolica per tutta la vita. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oddio, ho sentito tipo qualcuno che parlava per tipo tre secondi di fila alla mia sinistra e mentre mi sono girato è cascata una maglietta. Ah, com'è cascata? Dallo stendino. Era normale che è cascata? Cioè, mi sono tipo... Cioè, mi senti quando ti potevi al freddo? Sì. Cioè, tipo il freddo di improvviso di quando ti potevi al freddo. Sì, sì, sì. Cioè, presente? Oddio mio. No, non me lo farò ripeto perché ormai mi sto guarda a sinistra ogni... Cioè, io sto parlando mentre mi guarda a sinistra. Ma sto guarda più a gioco ormai. Che figata le cose paranormali. Ma tu ma madre è figata ormai. Che figata le cose paranormali. Dun 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 dun. Ci siamo. Sono un co***e. Mi sa... Mi sa... Ma sbocò. Ha saltato. Bravo. Bravo co***e ambe. Uo, i decibio. Bravo. Ci stai. Oh, vai. Ti prego, ti prego player. Non puoi capire quanto... Quanto voglio che fici quello. Oddio, vai. Vai, vai. Dio, che cazzo. Ero morto. Sì. No, non sei... Allora... Oh, 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 oh. Ce l'abbiamo fatta. Ragazzi. Ce l'abbiamo fatta. Non so se il player ha mutato il microfono. Non lo so. Ce l'abbiamo fatta. Stiamo registrando da quattro ore. Questo è il day 2. Stiamo registrando da quattro ore. Voi starete vedendo... Questo video sarà sicuramente di una mezz'oretta. Per forza. Perché su otto ore di registrazione una mezz'oretta minimo la devo mettere. Devo tagliare un ventesimo. Anche se il player ha mutato il microfono. Vi dico che dovete... Cioè, vi obbligo proprio a lasciare un pollicione in su. Dopo vi obbligo. Non me ne frega un cazzo. Scusate la porcarità, ma ho già bestemmiato le peggie volte. Dovrò censurare il diciannove ventesimi di video. Ok, è tornato player. Bene. Come noterete, il tono della voce è cambiato. Perché abbiamo tutt'altro setting psicologico adesso. Perché è una cosa assurda. Che non voglio proprio parlarne. Quindi lasciate un pollicione in su obbligatorio. No, no, no. Niente per favore. Dovete farlo proprio. Dopo quello che abbiamo passato, come minimo proprio. O se no vi iscrivete. Ecco, che sarebbe ancora meglio. E se vi va lasciate un commento. Scrivete qualcosa qui sotto. Quindi... Infatti ci conosce il nostro animale se volete. Ci vediamo. E abbiamo quindi il nostro primo let's play. Esatto. L'abbiamo finito finalmente. I rest. Ci vediamo. Che bello. Non vuole più parlare di Black Ramp. Ci vediamo ai prossimi let's play. Sì. Bella. Bella. No vuole più parlare di Black Ramp. 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 Grazie a tutti.